28 maggio 1945 nasce a washington patch adams al secolo hunter adams adams fonda nel 1972 l'istituto di sanità pubblica il gesundheit institute clown professionale e sostenitore della necessità del buon umore del sorriso nel rapporto fra medici e pazienti patch adams organizza ogni anno un gruppo di volontari che viaggiano in vari paesi vestiti da clown la loro performance è all'insegna della speranza e della gioia portate agli orfani negli ospedali alla gente alla sua vita è ispirato il film patch adams interpretato da robbie williams